Voci d'autunno in jazz e questo è il titolo della rassegna musicale in calendario Emolini Marzoli affardata da questa sera e sino a domenica 20 ottobre prossimo. Ai nostri microfoni il direttore artistico Gigi Di Lucca. Sono tutti concerti ad ingresso gratuito, sono cinque concerti. Stasera si parte con i soli String Quartet, un gruppo che ha comunque diciamo delle radici sul Torre del Greco nella loro attività che ospita Sandro De Hidda Gezzista per cui una caratterizzazione in più in un repertorio dedicato ai Beatles. I concerti di domani del 18 e del 19 saranno spostati al Teatro Corallo per avverse condizioni meteo. Per il programma rimane uguale, in prima serata abbiamo Elisabetta Serio col suo quartetto, pianista napoletana che ha collaborato con Pino Daniele e con tanti altri e a seguire Marco Zurzo col suo quintetto con ospiti diciamo importanti. Il giorno 19 invece abbiamo Antonio Norato, altro artista torrese che però presenta un progetto musicale nuovo con David Blamires, vincitore di Due Grammi, già cantante storico del Pat Metini Group, insomma come dire un ospite internazionale in questo concerto importante e poi invece domenica ritorniamo ai Molini se il tempo ce lo permette con un progetto di jazz flamenco con Antonio Lizzana, un quintetto che arriva dalla Spagna quindi in esclusiva per Voci d'Autunno e la caratteristica di questo concerto è che oltre ai musicisti che fanno jazz e flamenco c'è un ballerino di flamenco quindi grande spettacolarità, grande come dire contaminazioni e dialoghi tra i linguaggi, tra il jazz e il flamenco quindi tra il linguaggio dei gitani e il linguaggio diciamo jazz. Un progetto sostenuto dall'amministrazione comunale che continua ad arricchire la proposta culturale cittadina ed il palinzesto delle attività autunnali. È un progetto questo che il Comune sostiene interamente e che si insedia in una continuità di questi progetti di grandi contenitori importanti che stiamo portando avanti e che abbiamo fatto fino a questo momento cioè oltre alla festa di Guadalto Altare c'è stato Torre in Fiabba, Devozioni e Art Torre e ora Voci d'Autunno in Jazz per poi pensare ai programmi che ci riguardano sulle attività natalizie. È una programmazione che riguarda diversi strati sociali, a diversi linguaggi e soprattutto come dire, grande qualità.